La conferma arriva direttamente dall'Asla di Pescara. La somministrazione dei vaccini anticovid agli ultraottantenni di Montesilvano, che hanno manifestato il proprio interesse iscrivendosi al portale della Regione, partirà giovedì pomeriggio dal Paladin Martin. L'avvio della campagna vaccinale, posticipato di due giorni a causa dei ritardi nella fornitura delle dosi, comincerà rispettando il criterio di anzianità con appuntamenti prestabiliti e orari da rispettare tassativamente nella fascia oraria compresa tra le 15.30 e le 19.30, onde evitare pericolosi assembramenti. Oggi, intanto, partiranno le prime telefonate per fissare i primi appuntamenti, come spiega il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis. Sì, ho appena avuto notizia da parte dell'Asla che siamo pronti per somministrare le prime 120 dosi e partiamo con 120 ultraottantenni dei 1.500 che poi nei giorni a seguire verranno vaccinati e sono coloro che si sono prenotati per il tramite della piattaforma regionale qualche settimana fa. Noi siamo pronti come struttura comunale ad accogliere il nostro Paladin Martin, come è successo durante l'operazione dello screening di massa, con i volontari che hanno già dato la loro disponibilità a supportare le operazioni. Ovviamente tutto è ragionato sulla disponibilità anche del personale medico che dovrà somministrare le dosi di vaccino, che ha dato disponibilità per attivare tre linee di intervento. Noi siamo pronti, così come la Asle, ma siamo sempre a ricasco poi delle dosi che arrivano e che possono in qualche modo coprire il territorio. Sindaco, com'è che vi organizzerete proprio praticamente? Chi ha dato la propria disponibilità la manifestazione di interesse sulla piattaforma della regione verrà contattato quando? Ovviamente le persone che non saranno chiamate oggi o domani comunque devono star tranquille, nessuno sarà lasciato indietro. Inizieremo già a brevissimo a contattare per il tramite le persone del COC, gli ultratantenni di quali abbiamo già elenco. Rispetto allo screening di massa ci saranno due momenti diversi in realtà, perché ci sarà un'attesa, un momento di anamnesi per poi passare alla somministrazione del vaccino e subito dopo un'attesa di un quarto d'ora prima di poter lasciare la struttura e tornare nelle proprie abitazioni.